Paura e diffidenza sono le sensazioni che agitano il sonno e la vita di molti anziani della nostra provincia che di questi tempi non si sentono sicuri nemmeno tra le mura di casa propria. Dai ride compiuti nelle abitazioni da bande di malviventi che agiscono indisturbati anche con persone in casa alle truffe di sedicenti avvocati che chiedono soldi per salvare nipoti e figli dalla galera. Ultimo episodio accaduto ad Ariano ad un'ultra ottantenne contattata a telefonicamento e da un uomo che spacciandosi per avvocato l'ha convinta che occorrevano 2.000 euro per evitare l'arresto del nipote bloccato in caserma per aver provocato un grave incidente stradale. Dopo poco un soggetto si è presentato a casa dell'anziana riuscendo a impossessarsi addirittura di ben 6.000 euro. Tanti casi simili molti dei quali non vanno a segno anche grazie alla campagna di sensibilizzazione dell'arba dei carabinieri. Una psicosi oramai consolidata e anche basata su validi motivi. Nel caldellore finiscono anche gli operatori delle varie utenze di luce, gas, acqua e telefonia. Operatori che si presentano alle porte delle persone per cambiare i contatori ad esempio e che insospettiscono data l'area di diffidenza che è imperversa in giro. Una prassi utilizzata che di solito prevede avvisi scritti alla cittadinanza magari affissi in paese ma non nelle contrade e che trovano i cittadini impreparati e quindi indifisi. Gli stessi cittadini chiedono agli operatori del settore oltre che identificarsi in maniera corretta magari ad avvertire in maniera preventiva anche telefonicamente così da mettere loro in condizioni di lavorare ed evitare tensioni inutili alle utenze. Se pensiamo ai casi di truffa inscenati anche nei paesi focolaio del coronavirus da parte di persone che utilizzano il nome della Croce Rossa e che si è vista costretta a avvisare sul suo sito la presenza di sciacalli.